Buonasera a tutti, giovedì 28 aprile, giugno 22 alle ore 21, consiglio di Dottoressa Bezuzzi, a lei la parola per l'appello. Buonasera a tutti, Cesari Nicola, Borriani Sandra, non sento l'audio. Azzali Romeo presente, Valenti Cristina presente, Fava Gian Maria. Presente. Comelli Marco. Presente. Lancellotti Filippo. Presente. Benecchi Luciano. Benecchi Luciano. Sente. Colla Eleonora. Demi Elona. Sente. Gemma Maria. Sente. Magnani Cinzia. Sente. Albiero Jonathan. Sente. Bottazzi Francesca è assente giustificata, avendo comunicato la sua assenza al Sindaco Presidente. Soncini Gianni. Scusi consigliere Soncini, non ho sentito. Presente. Grazie. Zanichelli Irene. Presente. Rolli Leonardo. Sente. Bene, cedo la parola al Sindaco per la nomina degli scrutatori e il prosieguo della seduta. Scrutatori Colla, Albiero Zanichelli. Allora, primo punto all'ordine del giorno. Io direi, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, vorrei fare una premessa su una cosa, e in particolar modo è relativa alla richiesta da parte mia, di un ritiro di un punto all'ordine del giorno, che è il punto numero 4, quello dell'indennità degli amministratori locali, adeguamento alle disposizioni di cui l'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge 30 dicembre 2021 numero 234. Vi spiego le ragioni. Allora, pur riconoscendo quello che è l'impegno che molti membri della Giunta, tutti, si stanno prodigando tantissimo anche alla luce di quella che è stata la situazione che abbiamo affrontato e le ragioni stesse per cui anche il Parlamento ha legiferato sulla possibilità appunto che gli amministratori possano percepire anche un rimborso, un monumento insomma maggiore rispetto a quello fin qui percepito, anche in virtù della situazione che abbiamo attraversato, ce lo ricordiamo, quelle che erano le ragioni che hanno portato anche a quelle scelte, la situazione Covid, e anche insomma l'impegno importante anche che in questi giorni tutti, compresi gli uffici, si stanno dando per cercare di seguire tutti i bandi del PNRR. E preso atto anche di quelle che sono le risorse finanziarie disponibili nel nostro bilancio a seguito insomma di una riflessione ulteriore che la Giunta stessa ha fatto sulla possibilità anche, come sapete, insomma di aumentarsi autonomamente lo stipendio rispetto o quello che è il rimborso rispetto alle disposizioni già previste dalla legge stessa che è stata deliberata, lo dicevo, dal Parlamento, noi abbiamo deciso di fare anche un passo indietro. Lo dico perché pur in qualche modo riconoscendo, ripeto, l'impegno di tutti, anche alla luce insomma di quella che è la situazione che stiamo tutti attraversando, la Giunta tornerà proprio in Giunta a deliberare una rettifica, a revocare quel provvedimento. Per cui insomma noi vogliamo andare a rivedere quella scelta e a definire quello che sarà l'importo minimo previsto dalla legge per quella che è la copertura del contributo di fatto solo dello Stato. Ecco, come stanno facendo altri comuni, come altri comuni invece hanno scelto di invece aumentarsi con risorse proprie, quindi io volevo precisare e motivare anche le ragioni per cui vogliamo ritirare questo punto all'ordine del giorno, però giustamente io voglio anche lasciare a voi la parola se qualcuno vuole aggiungere qualcosa alla mia riflessione, perché credo che sia anche importante se lo ritenete, se no poi comunque ritirandolo lo andremo a ridiscutere quando sarà appunto rivista anche proprio la deliberazione di Giunta in merito. Se qualcuno chiede la parola, Soncini, prego. Grazie, a me, spero mi sentiate, prima c'era un problema, a me dispiace un po' perché ero favorevole a questa attività che poi si tratta solo di un anticipare i tempi rispetto a quello che la legge prevede, in realtà questi aumenti vanno a regime comunque nel giro di tre o quattro anni se non ricordo male, era un'opportunità perché gli amministratori vanno pagati, soprattutto se fanno bene il loro lavoro e bisogna riconoscere al nostro Sindaco che è sempre presente in tutte le giunte, in tutti i consigli, mentre da parte di alcuni assessori si vede un po' di latitanze sia in consiglio ma soprattutto nelle giunte. poteva essere un buon incentivo perché nelle aziende l'aumento di stipendio si usa per due cose, o per gratificare per un ottimo lavoro oppure per stimolare a fare un pochettino meglio. A me dispiace che venga ritirata ma ovviamente è una scelta che tocca l'amministrazione, perciò ci adeguiamo a quello che l'amministrazione chiede. Voglio ribadire un concetto, allora la giunta presente è presente, la giunta si sta impegnando sotto vari fronti però ripeto è una scelta che io per primo, di cui io per primo mi assumo le responsabilità. Ringrazio il consigliere Soncini per le lodi che possono essere anche un'occasione di riconoscenza però sono io il primo a fare un passo indietro perché sono io in qualità anche di Sindaco che avrebbe percepito un rimborso maggiore, uno stipendio maggiore perché poi ricordiamolo insomma ci sono anche amministratori che si pagano l'assicurazione, che si pagano i contributi, che si pagano tutta una serie di cose che giustamente un amministratore deve avere anche facendo questo a tempo pieno. Detto questo io mi sento di portare in votazione questo ritiro ringraziandovi per questo contributo. Rolli prego a lei la parola. Io avrei votato sì senza se e senza ma, l'aumento di amministratore di un comune così importante meritano di più, quindi per me non c'era il men che minimo dubbio che questo aumento si doveva fare, un amministratore, un amministratore dei nostri comuni secondo me ha uno stipendio molto basso rispetto a altre qualifiche statali, parastatali, pararegionali, paraprovinciali dove hanno degli stipendi ben più alti, dove il lavoro e il sacrificio e l'impegno e la responsabilità è dell'ultimo, quindi io avrei votato sì senza se e senza. Altri? Albiero? Sì, io sinceramente non avrei votato a favore, mi sarei stenuto perché comunque trovo giusto che ci sia questo adeguamento, contratto fermo se non ero dal 2000, però trovo giusto questo ritiro perché forse non è il periodo più adeguato per fare questo tipo di proposte. Diciamo che dal mio punto di vista non doveva neanche essere presentata perché siamo arrivati fino a qua e perché fino a ieri ci credevate, comunque trovo di buono anche questo rifinzamento, quindi per me il ritiro è da provare. Ecco, grazie. Ecco, voglio solo aggiungere che una delle ragioni che ha sottolineato il BR è stata una delle ragioni che ci ha anche spinto a fare questo tipo di ragionamento. Però ripeto, sono io il primo che ha sottoposto di nuovo alla Giunta questa osservazione, quindi sono anche pronta a assumere le responsabilità. Ho visto di nuovo Soncini. Grazie. Così a titolo e per lasciare traccia nelle registrazioni ci potete indicare quanto è l'attuale ammontare del compenso di sindaco, vice sindaco e assessori e a quanto sarebbe stato spostato? Così lasciamo traccia di tutto. Allora nel mio caso specifico l'ordi sono 2700 euro al mese, l'ordi alla fine 2000 circa netti e per quanto riguarda l'aumento sarebbe stato del 20 per cento circa per quello che riguarda l'aumento di legge parlamentare dello Stato. Se avessimo scelto di portarlo al massimo con risorse proprie cioè nostre risorse proprie sarebbe stato aumentato del 40 per cento. Giusto Fava mi puoi aiutare? 47. Io se volete ho anche i dati precisi se avete bisogno. Allora se parliamo del sindaco quindi il compenso 2021 2788 parliamo sempre di cifre lorde, l'aumento 22 porta il compenso a 3396 lordi, l'aumento 2023 porta il compenso a 3707, l'aumento dal 2024 porta il compenso a 4140. Il vice sindaco è sempre al 55 per cento del diciamo dello stipendio del sindaco, gli assessori sono al 45 per cento dello stipendio del sindaco. Grazie Albiero. Sì visto per fare rimanere traccia volevo fare questa domanda. Leggo nella delibera che avete mandato che sono gli aumenti per il sindaco e il vice sindaco assessori mentre per quanto riguarda i consiglieri rimane a 19,99. Quindi volevo chiedere come mai si era pensato di aumentare quello del vice sindaco e sindaco assessori e lasciare mutato quello dei consiglieri. dottoressa non so se vuole rispondere lei su questo punto ma non era previsto dalla vado a memoria non era previsto dalla legge questo. Sì diciamo che in effetti la questione dell'aumento dell'indenità dei consiglieri è una questione ancora aperta. Stiamo aspettando in effetti dei chiarimenti normativi su questo perché l'articolo 1,583 di questa legge che è la 234 del 2021 parla dell'indennità dei sindaci. Però in effetti gli amministratori di un comune sono il sindaco, i componenti della giunta e anche i consiglieri comunali. Eh quindi ehm allo stato attuale eh non vi è però una eh percentuale che viene indicata per l'aumento del gettone di presenza dei consiglieri comunali. Perché mentre per come diceva correttamente l'assessore Fava eh l'emolumento del vice sindaco è il 55 per cento dell'indennità del sindaco e per gli assessori è il 45 per cento dell'indennità del sindaco e poi per quanto riguarda gli aumenti ovviamente si va per fascia di abitanti e il nostro comune è eh tra i 10 e 15 mila abitanti. Eh per quanto riguarda i consiglieri ci sono questi gettoni di presenza ma non è ancora chiaro che tipo di aumento poter applicare. Grazie. Bene quindi mettiamo i voti eh se siete d'accordo no? Gianni Soncini prego. Eh signor sindaco se me lo permette vorrei approfittare del eh del segretario che ci stava per indicare prima le cifre totali magari così tanto per fare i corollari e chiudere la questione. Allora ehm la premessa è che questa normativa ha previsto un aumento a step quindi un primo aumento nel 2022, un secondo aumento nel 2023 e l'aumento a regime del 2024. Qual è la base di partenza? È eh il corrispettivo del presidente di regione. Per i comuni della nostra fascia quindi ripeto tra i 10.000 e 15.000 abitanti è stato previsto che a regime l'emolumento del sindaco sia pari al 30% di quello del presidente di regione. In che cosa consistono i vari step? Che per il 2022 è stato previsto il 45% eh come incremento del differenziale tra l'attuale indennità del sindaco e eh il compenso del presidente di regione. Quindi come prima si diceva correttamente attualmente ovviamente quando parliamo di stipendi pubblici in generale si parla sempre di stipendi all'ordo e giusto ripeterlo. Quindi attualmente l'indenità del sindaco per i comuni della fascia come la nostra è di 2.788 euro e 87 centesimi. A regime a partire dal primo gennaio 2024 sarà pari al 30% dell'indennità del presidente di regione quindi 4.140 euro. Cosa prevede la norma? Che se quest'anno non si vuole anticipare eh l'indennità a regime cosa possibile eh il il compenso di legge coperto da contributo dello Stato è pari al 45% della differenza che è pari a 608 euro virgola 01. Quindi eh a partire dal primo gennaio 2022 lo stipendio del sindaco di 2.788 euro virgola 87 sarà aumentato parliamo sempre di cifre lorde di 608 euro virgola 01 e così quella del vice sindaco che è pari a 1.533 virgola 88 sarà aumentata di 334 virgola 40 euro e quella degli assessori che è pari a 1.254 virgola 99 centesimi sarà aumentata di 273 euro virgola 60. Questo aumento è ehm compensato da è determinato da un contributo dello Stato e preciso che eh se ehm questo contributo non viene utilizzato per l'aumento di questa indennità di legge va restituito in caso ovviamente di rinuncia da parte eh del dell'amministratore. Ehm nel 2023 invece parlo degli step l'aumento sarà pari al 68% del differenziale tra lo stipendio detto inizialmente e sempre lo stipendio del presidente della regione e invece a partire dal primo gennaio 2024 si partirà si arriverà a regime e quindi l'indennità del sindaco per i comuni della nostra della nostra fascia sarà pari al 30% dell'indennità del presidente della regione. Non so se sono stata chiara o se volevate avere altre informazioni. Per me più che esaustiva. Grazie. Bene. Ci sono altri interventi. Chiedo di mettere i voti il punto numero quattro. Il rinvio del punto numero quattro. Prego dottoressa lei per l'appello. Cesari Nicola. Favorevole. Borriani Sandra. Favorevole. Azzali Romeo. Favorevole. Valenti Cristina. Favorevole. 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 Comelli Marco. Io non sento l'assessore Comelli. Non è presente. Non è presente. In questo momento assente. Lancellotti Filippo. Favorevole. Benecchi Luciano. Favorevole. Colla Eleonora. Favorevole. Demi Elona. Favorevole. Gemma Maria. E' assente o non l'assente? Favorevole. Favorevole. Magnani Cinzia. Favorevole. Albiero Jonathan. Soncini Gianni. Nuto. Zanichelli Irene. Astenuta. Rolli Leonardo. Nuto. Con i voti di astensione dei consiglieri Soncini, Zanichelli e Rolli e i restanti voti favorevoli, il punto numero 4 all'ordine del giorno viene ritirato. Prego Sindaco. Grazie. Primo punto all'ordine del giorno. Ratifica variazione urgente al bilancio di previsione 2022-2024 e dalla nota di aggiornamento al DUP 2022-2024. La parola a Gian Maria Fava. Buonasera a tutti. Con questo punto all'ordine del giorno andiamo a ratificare una variazione urgente che è stata disposta dalla Giunta Comunale numero 42 del 6 aprile 2022. tale urgenza era motivata dall'esigenza di poter dar corso alla stipula di un accordo con la Prefettura di Parma per la realizzazione di un progetto sperimentale di accoglienza dei cittadini ucraini della durata di 4 mesi che sarà svolto con la collaborazione dei soggetti del terzo settore finanziato dal Ministero dell'Interno attraverso la competente Prefettura per una spesa presuntiva di Euro 110.016,50. quindi la variazione vede un'entrata nel capitolo contributo al Ministero dell'Interno per Euro 110.016,50 appunto e la medesima cifra nelle spese nel capitolo spese per emergenze ucraina. Interventi? Non ci sono. Prego, Rolli. Io vedo una persona collegata comune Sorbro. Può sapere chi è? O no? Nicola sarà. No, è l'ingegner Bertozzi perché poi abbiamo dei punti relativi insomma al settore tecnico quindi eventualmente per i clienti l'abbiamo fatto collegare in anticipo e quindi intanto lo ringraziamo per la presenza. Non lo ricordo. È un po' scuro, è un po' in ombra. È un po' scuro. Ha già parlato? Chiedo scusa, purtroppo mi è caduta la connessione. Sì, abbiamo già esposto il punto e poi Rolli chiedeva chi era la persona collegata a comune e abbiamo spiegato che è l'ingegner Bertozzi. Bene, allora mettiamo ai voti il punto numero uno. Prego, dottoressa, lei per l'appello. Sì, sindaco. Se vuole chiedere già in questo momento, visto che questa delibera e le prossime sono soggette all'immediata eseguibilità, se tutti, i capi gruppo in particolare, sono d'accordo nell'assegnare all'immediata eseguibilità lo stesso voto che assegneranno alla delibera. Allora, mettiamo solo agli voti la richiesta, la parte mia, di eseguibilità, entrambe le votazioni in unica votazione, quindi compresa anche l'immediata eseguibilità. Lei, questo è per l'appello. Cesari Nicola? A favore per l'immediata eseguibilità. Boriani Sandra? Vedo l'assessore Boriani, ma non la sento. A favore. Grazie. Azzali Romeo? Sì, favorevole. Valenti Cristina? Favorevole. Fava Gian Maria? Favorevole. Comelli Marco, se si è riconnesso. Favorevole. Favorevole. Lancellotti Filippo? Favorevole. Favorevole. Benecchi Luciano? Favorevole. Colla Eleonora? Favorevole. Demi Elona? Favorevole. Gemma Maria? Favorevole. Magnani Cinzia? Favorevole. Albiero Jonathan? Favorevole. Soncini Gianni? Favorevole. Zanichelli, Irene? Rolli Leonardo? Favorevole. Favorevole. Quindi il Consiglio Comunale, all'unanimità dei 16 presenti, approva la modalità di attribuire all'immediata eseguibilità la stessa votazione che i consiglieri assegneranno alla proposta di delibera. Quindi, se siete d'accordo, passiamo ora alla votazione del punto numero uno, che è la ratifica, la variazione urgente al bilancio. Cesari Nicola? Favorevole. Borriani Sandra? Favorevole. Azzali Romeo? Favorevole. Io mi aggiungo favorevole ancora. Valenti Cristina? Favorevole. Fava Gian Maria? Favorevole. Comelli Marco? Favorevole. Lancellotti Filippo? Favorevole. Benecchi Luciano? Colla Eleonora? Favorevole. Demi Elona? Favorevole. Gemma Maria? Favorevole. Magnani Cinzia? Favorevole. Albiero Jonathan? Favorevole. Soncini Gianni? Favorevole. Zanichelli Irene? Favorevole. Rolli Leonardo? Favorevole. All'unanimità dei 16 presenti il Consiglio approva il punto numero 1 e così l'immediata eseguibilità della stessa proposta. Prego Sindaco. Passiamo al punto numero 2. Approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2021. La parola Giammaria Fava. La parola Giammaria Fava. è un fondo cassa di euro 12 milioni 643,193,11. Andando ad analizzare le voci principali, confrontandole anche con quelle relative all'esercizio precedente 2020, si vede come l'avanzo di amministrazione 2021 è in diminuzione di circa 74 mila euro rispetto a quello approvato lo scorso anno che era di 6 milioni 162,420. Le motivazioni di questa diminuzione leggera dell'avanzo ci evidenziano andando ad analizzare le varie parti che lo compongono e relativi incrementi e decrementi. Per la parte accantonata si rileva un fondo crediti di dubbia esegibilità di euro 2 milioni 400 862,94, il cui incremento di euro 116.435,68 è dovuto al fisiologico accumulo al fondo dell'anno precedente, delle entrate da tributi e da proventi dei servizi non ancora riscossi, derivanti dall'anno 2021. Questo risultato di amministrazione presenta poi accantonamenti per fondo perdite partecipate per euro 27 mila 934, risultanti dall'anno precedente e non ancora utilizzati, un fondo rinnovi contrattuali per euro 169 mila 942 ed euro 7 mila per il fondo di fine mandato. Per la parte vincolata che compone l'avanzo troviamo la somma di euro 931.094, di cui 606.474.15 è vincolato da leggi e da principi contabili, mentre 324.289.48 è vincolato da trasferimenti. Per quanto riguarda la parte investimenti dell'avanzo troviamo appunto una somma di euro 162.396 in grande diminuzione rispetto ai 757.547 dell'anno 2020 dovuta al fatto che nel corso del 2021 è stato quasi totalmente utilizzato appunto l'avanzo di 918.000 del 2020 per il finanziamento di investimenti e allo stesso tempo si è ricostituito per 160.915. Poi troviamo la parte diciamo maggiore per quanto riguarda l'avanzo libero che è di euro 2.368.477.85 che deriva dalla differenza tra la quota libera che era già presente a inizio anno di 1.547.794.16 a cui si aggiunge l'avanzo libero che si è generato durante la gestione del 2021 di euro 937.583.69. Il fondo cassa come detto rileva un incremento da 10.358.783 del 2020 e da euro 12.643.193 del 2021. Diamo infine evidenza della contabilità economica patrimoniale che per gli enti locali riveste solo carattere conoscitivo e che rileva un utile dell'ente di euro 2.161.966. Queste sono le principali voci che lo compongono, ho cercato di fare un po' un riassunto insomma anche della relazione che avete ricevuto abbastanza insomma articolata, quindi sono queste le voci principali che compongono il rendiconto e l'avanzo. Prego interventi. Prego Soncini. Grazie, l'assessore Fava ci ha illustrato che c'è un fondo di fine mandato composto da 100.000 euro, non ricordo esattamente perché mi è andata via la voce in quel momento. Mi può ripetere la cifra e a cosa è destinato per cortesia? Allora, no, c'è un fondo rinnovi contrattuali di 169.942 che riguarda i rinnovi contrattuali dei dipendenti che sono diciamo fermi da diverso tempo e poi c'è invece un fondo di fine mandato di 7.000 che è di fatto 7.000, sì, che è di fatto l'indennità di fine mandato del sindaco, sostanzialmente è una sorta di, tra virgolette, TFR, possiamo definirlo così, non so, poi la segretaria eventualmente mi corregge, di fine mandato. Da aggiungere a quei 2.723 di prima? Esatto. Ok, grazie. Prego altri, se non ci sono altri interventi chiedo di mettere ai voti il punto numero 2, prego dottoressa per l'appello con l'immediata eseguibilità. Cesari Nicola Favorevole Boriani Sandra Favorevole Azzali Romeo Valenti Cristina Favorevole Fava Gianmaria Favorevole Comelli Marco Favorevole Lancellotti Filippo Favorevole Favorevole Benecchi Luciano Favorevole Colla Eleonora Favorevole Favorevole Demi Elona Favorevole Favorevole Gemma Maria Favorevole Magnani Cinzia Favorevole Albiero Jonathan Favorevole 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 Con i voti contrari dei consiglieri Albiero, Soncini, Zanichelli, Rolli e i restanti 12 voti favorevoli la delibera al numero 2 viene approvata e così l'immediata eseguibilità della stessa. Prego Sindaco. Passiamo al punto numero 3. Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati. Modifica. Prego Gianmaria Fava. Sì, con questa delibera andiamo a fare una modifica appunto al regolamento citato e nello specifico andiamo ad integrare l'articolo 54. Questo si è reso necessario visto che con l'entrata in vigore del nuovo registro unico nazionale del terzo settore si è iniziato il procedimento di migrazione di fatto delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di tutti i vari enti senza scopo di lucro. Iscritti negli attuali registri al nuovo registro unico nazionale del terzo settore. Quindi visto la volontà di esentare così come erano già esentate queste associazioni dal pagamento del canone di occupazione temporaneo di suolo pubblico andiamo appunto ad integrare l'articolo 54 del regolamento dal titolo esenzioni integrandolo con il punto Q come segue. Le occupazioni temporanee senza scopo di lucro effettuate da organizzazioni, associazioni, enti e società su richiesta di esenzione sottoscritta dal relativo regale rappresentante e corredata dalla certificazione attestante l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore. Grazie Maria Fava, la parola al consiglio. Non ci sono interventi, chiedo di mettere ai voti il punto numero 3. Prego dottoressa lei per l'appello. Cesari Nicola A favore A favore Borriani Sandra Favorevole Azzali Romeo Favorevole Valenti Cristina Fava Gian Maria Favorevole Comelli Marco Favorevole Lancellotti Filippo Favorevole Favorevole Benecchi Luciano Favorevole Colla Eleonora Favorevole Favorevole Demi Elona Favorevole Favorevole Gemma Maria Favorevole 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 Grazie Rolly Leonardo, io non ho sentito, voi avete sentito. Grazie, passiamo quindi al punto successivo che è comunque il punto numero 5, variazione del bilancio di previsione 2022-2024 dalla nota di aggiornamento al DUP 2022-2024, sempre Gianmaria Fava. Con questo delibera andiamo ad apportare la terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024. Quattro è la terza variazione ma in realtà è la prima in cui vengono impegnate nuove risorse dopo appunto l'approvazione del rendiconto con l'avanzo che abbiamo citato prima. Ma le altre due variazioni che abbiamo fatto sono stati degli spostamenti di risorse tra capitoli e quindi di fatto non hanno impegnato nuove risorse. Allora in questa variazione per quanto riguarda la parte corrente utilizziamo in entrata l'avanzo libero per Euro 63.000 e inseriamo in entrata un contributo da privati per realizzazione di impianto fotovoltaico di 122.000. Queste due entrate vanno a finanziare tutta una serie di spese correnti che adesso vi elenco. Contributi per iniziative culturali, interventi vari Euro 18.000, spese per attività culturali Euro 20.000, spese per promozione turistica 24.500, spese per liti arbitraggi e risarcimento 6.000, Spese per incarichi patrimonio 11.000, spese per incarichi ufficio tecnico 24.000, 089 e 48.000, spese di iniziative di carattere ambientale 4.500, indennità di funzione agli amministratori 41.378, Spese per contributi buoni libri e borsi di studio 3.700, spese per gestione impianti sportivi Euro 1000, spese per utenze 10.000, manutenzione ordinaria patrimonio 14.000, contributo alla provincia per convenzione concorsi 4.000, trasferimento alla provincia Euro 5.000. Per quanto riguarda invece la parte investimenti, andiamo a recepire in entrata un contributo regionale di Euro 20.000 che finanzia l'acquisto automezzi e mezzi operativi relativi a un bando veicoli elettrici. Andiamo poi a recepire, e lo vedremo anche nella variazione del piano triennale, un contributo statale per investimenti di Euro 60.000 sull'annualità 2022 e di 30.000 sull'annualità 2023, che vanno a finanziare la manutenzione straordinaria della viabilità. Andiamo poi a inserire nell'annualità 2023 un contributo statale progetto rigenerazione urbana per 5 milioni, che troviamo in equivalente speso sempre per 5 milioni, relativo sempre a un bando di rigenerazione che poi verrà spiegato anche meglio al punto successivo quando c'è la variazione del programma triennale. Dopodiché utilizziamo anche qui somme dell'avanzo, nello specifico 114.841 di avanzo vincolato, 162.396 dell'avanzo investimenti e 115.768 di avanzo libero. Tutte queste somme che sommano 393.06 vanno a finanziare tutta una serie di voci nella parte investimenti, ve l'elenco anche qui come fatto prima. Euro 60.000 per sistemazione viabilità, Euro 56.119 per acquisto automezzi e mezzi operativi, Euro 1887.57 per spesi di investimento politiche giovanili, Euro 5.000 per manutenzione straordinaria segnaletica, Euro 25.000 per opere accessorie, campo sportivo e realizzazione arredo urbano, Euro 50.000 per arredi, attrezzature, biblioteche e sale culturali, Euro 80.000 per la manutenzione straordinaria dei parchi, Euro 35.000 per acquisto aree e spropi, Euro 30.000 per l'acquisto mobili, macchine, arredi e attrezzature, Euro 50.000 per l'acquisto arredi e attrezzature per manifestazioni ed eventi. Prego la parola al Consiglio, Soncini, prego. Grazie signor Sindaco, due cose, la prima c'è un trasferimento di 5.000 Euro alla provincia insieme ad altre cose tipo la convenzione eccetera, avrei bisogno di una maggiore illustrazione del motivo di questo trasferimento e secondo se fosse possibile magari non è lei assessore Fava la persona indicata, illustrarci meglio il progetto di quei 5.000.000 che abbiamo da fare perché se lo discutiamo dopo rischiamo di sbagliare nel voto di questa delibera. Grazie. Allora, rispondo per il primo punto, poi per il secondo lascio eventualmente la parola a Comelli che lo sta seguendo direttamente. I 5.000 che vengono trasferiti alla provincia sono legati a quel canone che diceva l'entrata di 122.000 Euro per la realizzazione del fotovoltaico perché appunto da normativa il 5% dell'imponibile va diciamo girato alla provincia, quindi è un trasferimento proprio da normativa sostanzialmente. Grazie. E la parola lascio a Comelli poi per invece il bando di regenerazione. Sto prendendo la parola, va bene. Sentite? Noi sì, ma il Presidente è caduto, fra un secondo rientra. Sì, sì, ti sentiamo Marco. Non credo che ci siano problemi se ponendo parole. Spero. Allora, il bando è quel bando di cui nel precedente Consiglio Comunale avevamo, faceva riferimento all'accordo con il Comune di Brescello per la partecipazione al bando della regione urbana. Nella variazione si va a inserire quindi l'ammontare che noi candidiamo a bando, che è 5 milioni, che corrisponde all'ammontare massimo candidabile al bando. Come si diceva, è un atto formale per partecipare al bando, nel senso che se non è inserito nel piano delle opere, quindi di conseguenza della parola di bilancio, non è possibile partecipare al bando, motivo per cui dobbiamo fare la variazione. La variazione però prevede anche che, appunto, è un capitolo che entra e esce su se stesso, nel senso che i soldi che entrano sono quelli che verrebbero percepiti in caso di vincita del bando. Noi non mettiamo nessuna risorsa aggiuntiva in questo momento per riguardo a queste opere. Immagino che le consiglie di Soncini volessero qualche delucidazione su che cosa abbiamo candidato, penso. Se me la dà, volentieri. Grandi linee, almeno per capire il perché dell'ammontare. Ricordo che noi siamo capofila, quindi noi candidiamo le opere di un bando di rigenerazione fatto assieme al comune di Brascello, perché il bando prevedeva la compartecipazione di comuni sotto i 15.000 abitanti per il superamento di almeno 15.000 abitanti nel loro insieme. La candidatura quindi fa, quindi nei 5.000 sono presenti opere comuni, diciamo così, quindi strategiche comuni al bando, e opere che pur essendo nel bando sono o sul territorio di Sobolo o sul territorio di Brescello. Noi candidiamo appunto, come dicevamo, la connessione ciclabile fra i comuni di Sobolo, Mezzani e Brescello, finalizzata al collegamento dei territori alla rete del ciclovie di interesse nazionale, all'incentivazione della mobilità lenta a casa lavoro e alla promozione naturalistica del fiume Enza, anche attraverso la rigenerazione urbana del paesaggio urbanizzato storico di Lentigione e del centro abitato di Sobolo. Ovvero, detto in parole povere, noi candidiamo quello che si chiama il ponte, che è una passarella ciclabile fra Lentigione e la zona di Via Ossoline, quindi zona di Corte Godi, per intenderci, per capire il posizionamento, più delle opere di rigenerazione urbana Lentigione, quindi del tratto urbano che va dalla chiesa all'argine, che corrisponde a quello che si chiama il edificato storico di Lentigione, e invece sul nostro territorio, di competenza di Sobolo-Menzani, candidiamo il potenziamento, il parziale rifacimento di alcune piste ciclabili, il rifacimento di alcune vie in ottica di formazione di tratti ciclabili, percorsi ciclabili, marciapiedi, che vengono appunto riadattati per poter sopperire alle funzioni appunto più di tipo di carattere anche di rigenerazione urbana, quindi di nuove funzionalità, connessione fra le piazze interne, vi dicendo, che permettono quindi nel loro complesso una rigenerazione del centro di Sorbolo in ottica di mobilità lenta. Il tutto con una visione di rete, ovvero di connessione alle piste ciclabili esistenti, per esempio dalla Food Valley Bike fino ai percorsi che poi sono la Vento, ma anche a tutto quello che è la valorizzazione naturalistica del Fiumenza, quindi cito ad esempio i percorsi CAI, tutto quello che è il parco naturale che si può poi sviluppare sul Fiumenza. Il massimo candidabile era 5 milioni di euro, lo studio di fattibilità legato alla valorizzazione del piano delle opere risolvava tutti i dettagli di questa cosa e noi chiediamo e candidiamo alle opere per il massimo importo possibile, nella speranza chiaramente di vincere. Concini Grazie, bene mi fa piacere sapere che c'è oltre varie cose un po' più piccole questa rigenerazione delle piste ciclabili perché io in autunno ho fatto un'assegnazione con una PEC al comune per una buca enorme sulla pista ciclabile che va a Casaltone ma è ancora lì, perciò speriamo di risolverlo. Chiedo la parola. Prego Comelli Nel dettaglio, sì, rispondo al consiglio dicendo che l'opera di rifacimento di quel tratto tra l'altro di piste ciclabili dove c'è proprio un interesse a Casaltone è già inserito negli interventi di manutenzione delle ciclabili in cui è già stata finita la progettazione e in cui ci apprestiamo a uscire con la gara per l'esecuzione di lavoro perché fa parte di un'approvazione di bilancio fatta proprio l'anno scorso, quindi spero a breve di risolvere il problema e di rimettere a posto tutta la zona. Prima di passare a Soncini, la buca la chiudiamo comunque nei prossimi giorni. Prego Soncini. Sì, era proprio questo a cui tenevo, il fatto di ricostruire la ciclabile, lì ci sarà da scavare perché le radici hanno sollevato un po' di tutto, l'erba si sta mangiando l'asfalto, così come quella che c'è che va a corte godi, è una cosa, ma la sistemazione di una buca è pericolosa, attendere 8-9 mesi, è vero che d'inverno in bicicletta andiamo poco, però lì è per il lungo, larga 10 cm, profonda 15 cm. Se c'entra con la ruota della bicicletta chiunque, anziano, giovane che sia, ci lascia l'appello. Chiarissimo. Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, chiedo alla dottoressa di procedere con l'appello per il punto numero 5 e metto la votazione. Cesari Nicola? Favorevole. Boriani Sandra? Favorevole. Favorevole. Azzali Romeo? Favorevole. Può ripetere? L'ho sentito, favorevole. Favorevole, favorevole. Adesso sì, grazie. Valenti Cristina? Favorevole. Fava Gianmaria? Favorevole. Comelli Marco? Favorevole. Lancellotti Filippo? Favorevole. Favorevole. Benecchi Luciano? Favorevole. Colla Eleonora? Favorevole. Favorevole. Demi Elona? Benecchi. Gemma Maria? Favorevole. Magnani Cinzia? Benecchi. Benecchi. Jonathan? Benecchi. Benecchi. Soncini Gianni? Benecchi. Zanichelli Irene? Benecchi. Rolli Leonardo? Benecchi. Benecchi. Voti favorevoli. Il punto relativo alla variazione al bilancio di previsione 22-24, la nota di aggiornamento al DUP, che ora è al numero 4 dell'ordine del giorno, viene approvato e così l'immediata eseguibilità della proposta di delibera stessa. Prego, Sindaco. Passiamo al sesto punto dell'ordine del giorno, terza variazione del programma trinale 2022-2024 e dall'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici. di approvazione. La parola a Romeo Azzali. Giriamo a Marco Comelli, perché è qui il punto che ha appena spiegato e quindi eravamo d'accordo con questo. Chiedo scusa. Chiedo scusa. La parola a Comelli. Prendo quanto è illustrato nel punto precedente, facciamo una variazione del piano delle opere per inserire appunto al suo interno il progetto di, cioè un documento di fattibilità, poi il progetto di candidatura alla rigenerazione urbana. Quindi quest'opera che noi facciamo con Brescello, di cui siamo il capofila, di conseguenza candidiamo anche le opere sulla parte del Comune di Brescello. che preveva la passerella sul Fiumenza e poi la rigenerazione urbana nella zona di lentigione e delle piste ciclabili nella zona di Sobbo. Grazie. Ci sono interventi? Sono una mal alzata? Forse ancora la mia. D'accordo. Se non ci sono interventi chiedo di mettere ai voti il punto numero 6. Prego dottoressa, lei ha la parola. Cesare Nicola. A favore. Borriani Sandra. Io non ho sentito. Favorevole. Grazie. Azzali Romeo. Favorevole. Valenti Cristina. Favorevole. Favorevole. Va bene. Valenti Cristina. Favorevole. Fava Gianmaria. Favorevole. Comelli Marco. Favorevole. Lancellotti Filippo. Favorevole. Benecchi Luciano. Favorevole. Colla Eleonora. Favorevole. Demi Elona. Gemma Maria. Favorevole. Magnani Cinzia. Favorevole. Albiero Jonathan. Favorevole. Soncini Gianni. Tenuto. Zanichelli Irene. Tenuto. Rolli Leonardo. Tutto. Con i voti di astensione dei consiglieri Soncini, Zanichelli, Rolli e i restanti 13 voti favorevoli, la delibera viene approvata e così l'immediata eseguibilità della stessa. Prego Sindaco. Grazie, settimo punto. Ratifica espressione e posizione definitiva del Comune di Sorbolo Mezzani nell'ambito del CDS per l'esame del progetto definitivo dell'intervento denominato potenziamento dell'offerta sportiva, realizzazione del centro sportivo di Mezzano Inferiore ad attuare da parte del Comune di Sorbolo Mezzani in Sorbolo Mezzani, località Mezzano Inferiore, via Unità d'Italia, comportante e variante al piano strutturale comunale dal regolamento urbanistico edilizio vigente e dalla classificazione acustica dell'ambito territoriale di Mezzani. La parola a Gian Maria Fava. Con questa delibera andiamo a ratificare l'espressione della posizione definitiva del Comune nell'ambito della conferenza dei servizi per l'esame del progetto denominato potenziamento dell'offerta sportiva centro sportivo di Mezzano Inferiore. Questo perché l'intervento proposto era come avevamo già anticipato probabilmente in precedenti sedute e localizzato nello strumento urbanistico vigente in parte in zone agricole di tipo 2 e in parte in zone industriali e artigianali di completamento interne e quindi si è resa necessaria la contestuale variante agli strumenti urbanistici vigenti dell'ambito di Mezzani attraverso la procedura prevista dell'articolo 53 legge regionale 24 2017. Una procedura se vogliamo semplificata che permette di mettere in esame la variante alla pianificazione urbanistica vigente e anche il progetto definitivo appunto dell'opera indicata. Diamo atto che la conferenza dei servizi indetta dal Comune si è svolta in numero 2 sedute e precisamente in data 2 febbraio 2022 e 13 aprile 2022 e i cui verbali sono depositati agli atti del Comune di Sorbo Lomezzani. Rileviamo che nell'ambito di questo procedimento indetto attraverso le sedute già citate sono stati acquisiti gli atti e i pareri nullosti e assensi della provincia di Parma, dell'Asle di Parma, parere favorevole dell'ARPA, parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, parere favorevole da parte della soprintendenza, parere favorevole da parte di Telecom Italia, parere favorevole da parte di Reti, parere favorevole da parte del CONI. Rileviamo inoltre che sono state presentate e pervenute numero 5 osservazioni e che sono state di cui 4 accolte e una parzialmente accolta. Prendiamo atto che la seconda e ultima conferenza dei servizi appunto in data 13 aprile si è conclusa con esito quindi favorevole alla realizzazione dell'intervento comportante e variante al PSC e al RUE di Mezzani vigente. Dobbiamo quindi ratificare questo esito e con questa delibera appunto andiamo a controdedurre l'osservazione secondo il disposto del seguente allegato al presente atto come parte integrante sostanziale legato a. Andiamo a ratificare per tutto quanto esposto in premessa l'espressione della posizione definitiva positiva di questo ente espressa nella seduta conclusiva del 13 aprile della conferenza dei servizi di cui l'allegato verbale allegato B per l'esame del progetto definitivo dell'intervento denominato potenziamento dell'offerta sportiva. Andiamo ad approvare anche per quanto di competenza il progetto definitivo relativo all'intervento e diamo atto che la presente deliberazione comporta la posizione del vincolo preordinato all'esproprio compreso nella variante urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera secondo quanto riportato dall'elaborato piano particellare di esproprio e diamo atto anche questa delibera non comporta riflessi diretti sulla situazione finanziaria economica patrimoniale dell'ente. Ci è collegato l'ingegner Bertozzi ci sono delle domande tecniche sulla procedura e insomma ci tengo anche a ringraziare direttamente l'ingegner Bertozzi, l'architetto Coccoi, l'architetto Cavalli, l'ingegner Berselli per il lavoro che hanno fatto in questi mesi relativi a quest'opera e quindi ci tengo a ringraziarli personalmente. Grazie Gian Maria Fava, mi unisco anch'io a quest'ultimo intervento anche nello specifico rivolto agli uffici, qui rappresentati anche dall'ingegner Bertozzi, ribadisco il lavoro di questi giorni è veramente importante, vengono chiesti sacrifici a tutti, come dire per primi gli uffici sono a disposizione anche proprio per seguire quelle che sono anche le uscite, dei bandi, delle istruttorie di cui necessitiamo noi amministratori per portare a termine anche quelle che sono le azioni amministrative, quindi vi ringrazio a nome ancora una volta mio e di tutti. Prego, la parola al Consiglio. Sì, volevo dire che il progetto del campo del calcio a mezz'anno inferiore io non l'approvo come scelta politica, pertanto il mio voto sarà contrario, così come tutte le prossime volte ci sarà un ordine del giorno che riguarda questo progetto, ecco, grazie. Sì, scusate, prego altri, se non ci sono altri interventi io chiedo alla dottoressa di mettere No, in realtà Sindaco nella proposta di delibera c'è già la decisione in merito alle singole osservazioni, se ho anticipato il pensiero, in quanto ha già deciso la conferenza dei servizi, quindi si vota collegialmente nel senso che dovete tenere conto del fatto che l'osservazione numero uno viene accolta, così come la numero due, così come la numero tre e la numero quattro, mentre la numero cinque è parzialmente accolta. Ovviamente bisogna fare riferimento all'allegato A che spiega le singole osservazioni e il parziale accoglimento. Quindi la votazione riguarda questa, anche l'esame delle osservazioni con l'accoglimento delle osservazioni, così come vi ho specificato. Grazie. Ci sono interventi, ditemi voi se possiamo partire con l'appello, mi dica lei Sindaco. Scusa, mi sembra che abbia alzato la mano l'ingegnere Bertozzi. Sì, prego ingegnere. Sì, buonasera a tutti. No, l'ha già precisato l'ottore Sabeduschi, quello che appunto è un insieme di contradduzioni che sono raggruppate nell'elaborato di proposte di contradduzione in cui sono illustrate le... E quindi è una votazione collegiale sull'insieme. No, aggiungevo un piccolo dettaglio rispetto a quello che diceva l'assessore Fava. Abbiamo ottenuto il parere favorevole anche del Consorzio della Bonifica e di Enel che avevano chiesto alcune integrazioni, chiarimenti rispetto nella prima seduta della conferenza di servizi e quindi il Consorzio chiedeva appunto la quota di impostazione degli edifici e del campo rispetto alla piano di campagna e abbiamo spiegato appunto che ha una quota più alta in modo da evitare possibili lagamenti. L'Ener invece chiedeva la posizionamento della cabina di trasformazione della media tensione e anche quella è stata inserita. Grazie ingegnere, grazie dottore Sabeduschi. Possiamo passare dunque alla votazione del punto numero 7. Prego a lei per l'appello. Cesare Nicola? Favorevole. Borriani Sandra? Favorevole. Azzali Romeo? Favorevole. Favorevole. Valenti Cristina? Favorevole. Fava Gianmaria? Favorevole. Comelli Marco? Favorevole. Lancellotti Filippo? Favorevole. Benecchi Luciano? Favorevole. Colla Eleonora? Favorevole. Demi Elona? Favorevole. Gemma Maria? Favorevole. Magnani Cinzia? Favorevole. Albiero Jonathan? Favorevole. Favorevole. Contrario consigliere, ho capito bene. Contrario, sì. Soncini Gianni? Tenuto. Zanichelli Irene? Conta. Rolli Leonardo? Tenuto. Con il voto contrario del consigliere Albiero, i voti di astensione dei consiglieri Soncini, Zanichelli, Rolli e i restanti 12 voti favorevoli, il punto al numero 7, ora numero 6, viene approvato e così l'immediata eseguibilità della proposta stessa. Prego Sindaco. Noi non senti, io non sento. Non c'è. Io la sento, io vi sento, si è disconnesso temporaneamente adesso si è connesso. Ci manca il sindaco. Faccio le veci del sindaco come dice e do la parola. La connessione è caduta sul più bello. Eccolo, eccolo. No, volevo ringraziarti a Bertozzi e liberarlo e grazie per il contributo e per tutto quello che ci siamo detti prima. Niente, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a Zanichelli. Quindi il punto numero 8, presa d'atto della delibera di consiglio d'ambito ATERSIR numero 11 dell'11.4.2022, d'oggetto servizio gestione rifiuti, prima applicazione del testo unico della qualità nel settore rifiuti urbani di area. Fava? Prego. Questa delibera che di fatto è appunto una presa d'atto, andiamo a appunto recepire la delibera del consiglio d'ambito di ATERSIR numero 11 dell'11 aprile 2022, col quale si è disposto e approvato fra gli altri in fase di prima applicazione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questa delibera di ATERSIR a sua volta recepisce la delibera di ARERA del 18 gennaio 2022, numero 15 2022, ad oggetto regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con la quale ARERA approva il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che all'articolo 3 stabilisce che l'ente territorialmente competente, quindi nel nostro caso ATERSIR, deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per tutta la durata del nuovo piano economico finanziario 22-25, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui è la tabella 1 legata al relativo testo unico, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio nella carta di qualità vigente. Questo testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani riporta tutta una serie di articoli che regolano ed obbligano i gestori a soddisfare una serie di punti sulla qualità contrattuale tecniche di servizio. Alcuni obblighi di qualità di servizio da soddisfare da parte dei gestori, IREN Ambiente ad esempio, sono minimi e obbligatori e devono essere garantiti da tutti i gestori a livello nazionale, anche se ciò può comportare un aumento dei costi, mentre altri obbiettivi di qualità contrattuale tecnica sono facoltativi. Atersir di fatto ha fatto una ricognizione e con la delibera appunto di cui prendiamo atto, ha deliberato di attenersi e di rispettare già nei contratti e in essere quelli che sono gli obblighi minimi di qualità del servizio, quindi senza nessun aumento dei costi nel nuovo IPEF a causa di questi obblighi di qualità. Quindi di fatto è una presa d'atto di questa ricognizione di Atersir. Grazie, interventi? Non ci sono interventi? Chiedo al Consiglio di mettere ai voti, alla dottoressa Beduschi di mettere ai voti il punto numero 8. Prego dottoressa. Cesari Nicola, favorevole. Boriani Sandra, favorevole. Azzali Romeo, favorevole. Valenti Cristina, favorevole. Fava Gianmaria, favorevole. Comelli Marco, favorevole. Lancellotti Filippo, qual è? Benecchi Luciano, Colla Eleonora, favorevole. Demi Elona, favorevole. Gemma Maria, favorevole. Magnani Cinzia, favorevole. Albiero Jonathan, favorevole. Soncini Gianni. Stenuto. Zanichelli Irene. Stenuto. Rolli Leonardo. Stenuto. Con i voti di astensione dei consiglieri Albiero, Soncini, Zanichelli, Rolli e i restanti 12 voti favorevoli, il punto viene approvato e così l'immediata eseguibilità della delibera stessa. Prego Sindaco. Grazie, grazie a tutti i consiglieri. Probabilmente avremo un consiglio comunale, insomma, nei mesi di maggio potremmo averne più di uno. Prima della prima decade, insomma, nei primi 10-15 giorni, probabilmente ce ne sanno almeno uno. Ecco, speriamo di arrivare presto a farli tutti in presenza. Come vi ho detto, in questo momento stanno ancora aumentando i casi e questa cosa qui, quando i consigli comunali comunque non sono di pochi minuti, è anche un motivo di attenzione maggiore. Ecco, solo questo. Bene, buonanotte a tutti. Grazie.